Adesso tutti i quartieri sono, come dire, cardioprotetti, hanno dei macchinari, quindi hanno il defibrillatore, ma hanno anche persone formate che eventualmente, al bisogno, sarebbero in grado di utilizzarlo. Quindi grazie a tutti quelli che hanno veramente sponsorizzato e ideato questa iniziativa, adesso la città è più protetta. La città di Arezzo sempre più cardioprotetta. Un nuovo defibrillatore è stato infatti posizionato in via Bicchieraia 30 accanto alla sede dell'associazione Signarezzi. È il punto in cui parte tutta la macchina della giostra nei vari eventi del calendario giostresco. Questo è il punto di ritrovo di tutte le varie compagini e da cui parte poi il corteo. Quindi è stato questo il motivo che ci ha spinto a scegliere questo punto per poter installare il defibrillatore, proprio perché, oltre che essere al centro della città, è anche un punto di partenza e quindi di aggregazione. Si tratta dello strumento salvavita che l'associazione ha vinto durante l'iniziativa Saracino del Cuore, l'evento organizzato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza non solo della diffusione capillare di defibrillatori, ma anche della formazione per usarli al meglio in caso di necessità. Viva Arezzo, perché grazie alla sinergia con l'amministrazione comunale e tutti i gruppi e i quartieri della città di Arezzo siamo riusciti a far sì che Arezzo avesse sei defibrillatori in più e oltre 200 persone tra i quartieristi e i vari gruppi formati al massaggio cardiaco. Questo è il vero successo e il vero obiettivo che abbiamo centrato in queste tre manifestazioni che si chiamano Saracino del Cuore. In questa edizione particolarmente sentita, quella dedicata a Dante Alighieri, dove c'è stata anche una relazione da parte del professor Claudio Santori e dove lo stesso premio è stato consegnato a Papa Francesco, oggi andiamo a consegnare alla città, nel punto nevlagico più centrale, un defibrillatore che potrà essere utile in caso di necessità, sperando che poi non venga mai utilizzato. Lo strumento era stato messo in palio grazie alla sensibilità del Rotary Club della provincia aretina.